Tornare a Trieste dopo 26 anni è stato bellissimo, perché per me il pubblico è sempre stato appunto una parte dello spettacolo, cioè lo spettacolo si fa insieme, si fa ridendo insieme, ballando insieme, saltando insieme, tutta una serie di emozioni che rendono in live lo spettacolo veramente bello. Grazie a tutti. Grazie a tutti.